Questo video riguarda i migliori 3-trapano miscelatore. Il vincitore della qualità è l'Einel TMX 1600. Per miscelare materiali da costruzione liquidi o in polvere è meglio affidarsi all'agitatore per malta e vernice con sistema elettronico costante TMX 1600-2C. La sua trasmissione a due velocità, alloggiata in una robusta scatola di alluminio di lunga durata, trasmette la potenza del motore da 1600 W come potente coppia o come elevato numero di giri, in modo tale da regolare sempre in maniera ottimale la velocità dell'agitatore alla consistenza del materiale da miscelare. Regolazione dinamica del numero di giri, nessuna riduzione del numero di giri sottocarico. Potente motore che eroga la necessaria forza. Trasmissione a due velocità per una coppia molto elevata ed elevate prestazioni di miscelazione. Robusto corpo porta ingranaggi in alluminio di lunga durata. Collo della trasmissione con attacco di supporto per uso stazionario. Impugnatura ergonomica e interruttore di blocco per funzionamento continuato. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Vonrock miscelatore cemento. Il trapano miscelatore della Vonrock è dotato di un potente motore di 1800 W, altrettanto del soft start, consentendo così un avvio progressivo della macchina ed evitare schizzi, lavorando in modo pulito. L'elettronica di questo dispositivo consente di mantenere una velocità costante così da ottenere una miscelatura uniforme. Un miscelatore Un asta agitatore a due pezzi 140x 600 mm due chiavi montaggio-smontaggio asta Un borsa degli attrezzi Una tessera Vonrock Abbiamo deliberatamente deciso di non consegnare i nostri elettroutensili nelle solite valigette di plastica ma in speciali borse portautensili Vonrock, perfette per la conservazione delle macchine e dei relativi accesori. Materiali leggeri come vernici e intoner Materiali più pesanti come colla, pasta per carta da parati, stucco e malta Munito di due ampie impugnature ergonomiche per offrire un controllo ottimale e il massimo del comfort durante l'utilizzo Il vincitore del premio è l'IMAIC Betoniera Elettrica Betoniera con motore da 2100 Watt, adatta a miscelare vernici, cementi, mangimi, resine, inchiostri, malte a parete sottile, gesso, adesivi a base di cemento e altri liquidi a media viscosità La betoniera ha una regolazione della velocità da 1 a 6, che è facile e comoda per regolare la velocità per soddisfare le diverse esigenze operative L'interruttore autobloccante può essere bloccato con una chiave per mantenere la stabilità e alleviare la fatica Il portaspazzole interamente in rame è progettato esternamente, che può sostituire facilmente e rapidamente le spazzole al carbone, facilitando la manutenzione La betoniera adotta un design di dissipazione del calore poroso, che consente una dissipazione del calore più rapida e una maggiore durata Impugnatura dal design ergonomico, antiscivolo e confortevole, presa stabile, funzionamento a risparmio di manodopera, rende il lavoro più comodo, sicuro e stabile Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento